Oggi vi propongo i biscotti alle mele morbidi, sono dei biscotti particolari perché sono realizzati senza farina ma con la semola di grano duro. Ragazzi, sono davvero buonissimi, sono leggeri e facili da preparare, perfetti per la colazione con la merenda di tutti i giorni. Mi raccomando, se li provate, lasciatemi un commento. Due uova, le classiche uova dal supermercato, quelle medie, 150 g di zucchero semolato, lavorate bene le uova con lo zucchero. Una volta che avete lavorato benissimo le uova con lo zucchero, versate 80 ml di olio di semi di girasole. In alternativa potete utilizzare l'olio di semi di mais oppure l'olio di semi di soia. Una volta che avete lavorato anche l'olio, andiamo a versare mezza bustina di lievito vanigliato per dolci, qua non ti vedete nel video ma ho messo anche la buccia grattugiata di un limone, mi raccomando utilizzate limone biologico. In base alla stagione, se volete, potete utilizzare anche la buccia grattugiata di un'arancia. E poi vado a versare 260 g di semola rimacinata di grano duro. Due mele che pesano circa 300 g in totale, quindi vado a tagliare le mele a cubetti, magari tagliate i cubetti ancora più piccoli perché io li ho fatti grandi, e le infornate con un forno preriscaldato, forno ventilato a 170 gradi. I minuti di cottura possono cambiare da forno a forno, quindi vanno 12, più o meno sono 12-13 minuti. Però voi fate attenzione alla cottura, quando sono ben dorati sono pronti. Ragazzi, mi raccomando, non li fate cuocere troppo, oltre i 13 minuti, perché si possono seccare e bruciare. Quindi, quando sono ben dorati, ragazzi, spolverate lo zucchero a velo miscelato con la cannella. Come avete visto, ho miscelato lo zucchero a velo con la cannella. E che dirvi, provate questi biscotti morbidissimi alle mele. Sono dei biscotti rustici con la semola di grano duro, ma sono una vera e propria delizia. Vi aspetto sul mio canale YouTube Cartesia, iscrivetevi e attivate la campanella, perché se attivate la campanella, ogni volta che pubblico un video, vi arriva subito la notifica. Quindi, ragazzi, vi aspetto. Ciao, alla prossima!